Erano armati persino di Kalashnikov, rapinavano droga anche la concorrenza e usavano un linguaggio in codice chiamando le dosi bambini per non farsi scoprire dalle forze dell'ordine. Una banda ben organizzata ha sgominato all'alba in una vasta operazione condotta nella Batte nel Barese dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Bari. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custode cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 17 persone, tra cui sei collaboratori di giustizia, per traffico di droga aggravato dalle modalità mafiose. Tra gli arrestati è anche il prosunto capo dell'organizzazione criminale, il 32enne andriese Filippo Griner, già in carcere a Terni per altri reati, ritenuto in grado di gestire autonomamente tra il 2011 e il 2013, il mercato della droga principalmente nei comuni di Andria, quartiere San Valentino, e bisceglie con trada Torricella, forte anche di un arsenale di armi da guerra. Stamattina è stata debellata una banda, ma io direi un clan mafioso, che si occupava del traffico dello stuprofacente, non solo ad Andria ma in tutta l'area del Nord Barese e soprattutto nell'area di Bisceglie. Bisceglie era diventata la città luogo di spaccio e per anni c'è stato uno smercio di droga, soprattutto di cocaina. Un'organizzazione che non risparmiava trattamenti violenti neanche ai concorrenti sulla piazza. In una circostanza, secondo quanto accertato dai carabinieri, nei pressi di Castel del Monte sarebbe stato rapinato Kalashnikov alla mano, persino un corriere della droga concorrente che senza autorizzazione della banda stava trasportando un chilo di cocaina da spacciare sulla piazza di Bisceglie. Circostanze che confermano quanto Andria sia ancora un crocevia fondamentale nel traffico di droga in Puglia. Andria lo è sempre stata, però le operazioni svolte in questi ultimi mesi stanno contribuendo ad ebellare in maniera determinata quelle che sono queste organizzazioni che insistono in quell'area e in tutta l'area del Nord Barese. Grazie. 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 Grazie.